Una risorsa preziosa che sta andando in malora è la storia delle Terme di Carignano, località turistica e di cura dalle potenzialità enormi a pochi chilometri dalla costa, che dopo i progetti di sviluppo sulla carta e una battaglia legale ventennale ancora lontana dalla conclusione, sta sprofondando nel degrado più assoluto. Lo scorso 11 luglio la società Terme di Carignano SRL, che è in liquidazione e presto i suoi beni verranno messi all'asta, ha presentato un ricorso al TAR per inadempienza contro il comune di Fano, chiedendo un risarcimento di 7 milioni di euro, 2 per il mancato profitto e 5 per il deperimento dei beni che dal 2015 non sono più aperti al pubblico. Chiuso lo stabilimento termale, chiuso il dipartimento dove l'acqua della Fonte Orianna veniva imbottigliata, preda degli agenti atmosferici e della vegetazione, il nuovo stabilimento di 11 mila metri quadri ancora da completare. Il blocco del progetto danneggia anche i proprietari terrieri che avrebbero voluto sviluppare un piano edilizio parallelo e che pagano da 20 anni l'IMU su un terreno edificabile dove non possono costruire. Un paradosso tutto italiano. In quasi 40 anni tutte le varie amministrazioni ci hanno sempre promesso che ci avrebbero dato una mano per poter sviluppare queste terme. Io sono stato costretto a vendere l'albergo perché non siamo riusciti a metterci d'accordo con i vari enti, provincia, comune. Mi trovo in questa difficoltà che sono 20 anni che pago l'ICI su un terreno edificabile che faceva parte del comparto, il comparto Terme di Carignano e non posso sbloccare questa situazione perché sono legato in questo comparto. Poi volevo denunciare anche il degrado in cui sono state lasciate le terme perché l'albergo mio, comprato da quasi 9 anni, è lasciato abbandonato. Le ex Quattro Fonti, lo stesso, un altro albergo, c'erano due alberghi 40 anni fa, sono chiuse. Le terme sono chiuse da 4-5 anni. Io avevo un albergo con 26 camere sempre pieno da maggio a settembre. Siamo ridotti a non avere più nessuno e di nato una desolazione questo posto. E non va meglio anche per l'ex Oterregina, gestito dalla famiglia Benofi per 40 anni, un punto di riferimento per tutto il territorio, con il suo grande salone che poteva ospitare pranzi di mille persone. Rilevato dal cante di Montivecchio del 2011 per farne un RSA, è abbandonato a se stesso perché secondo gli investitori i posti letto che la Regione Marche sarebbe disposta a riconoscere non sono sufficienti a coprire le spese. E così è diventato preda di sbandati e balordi, che hanno rubato tutto il possibile e hanno iniziato a bivaccare all'interno, tanto che i proprietari sono stati costretti a murare porte e finestre per evitare nuove intrusioni. Una lunga storia di occasioni perse, specialmente in termini di posti di lavoro, che tra i due alberghi e lo stabilimento termale si stimano in almeno 100 unità. Grazie.